Siete pronti per la superluna? Non è uno scherzo e non siamo sul set di una settimana d'addio quando Jim Carrey nel suo delirio di onnipotenza ingrandisce a dismisura la luna per far colpo sulla moglie Jennifer Aniston. Succederà davvero questa estate di vedere il satellite della Terra più grande e luminoso, come è già accaduto nel giugno dell'anno scorso. La spiegazione del fatto che percepiamo la luna più grande è che durante il moto di rivoluzione del pianeta intorno al Sole, la luna compie un ellissi e il perigeo sarà il punto più vicino a noi. Tre sono le date importanti da tenere a mente se volete essere testimoni di un fenomeno suggestivo e perché no anche romantico come la superluna. Domani 12 luglio, il 10 agosto insieme alle stelle cadenti della notte di San Silvestro e infine il 9 settembre. Gli esperti dicono che ad agosto si verificheranno due coincidenze astronomiche che permetteranno di assistere addirittura ad una super super luna, ovvero perigeo e luna piena avverranno infatti non solo nello stesso giorno ma addirittura alla stessa ora.